Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Alcuni omicidi fanno davvero rabbrivedire perché mettono in luce l'inadeguatezza, le fragilità e le lacune della giustizia. È ciò che accade nel caso di cui vi parlo oggi. È il 2012 e ci troviamo a Brunswick, un colorato soborgo multiculturale di Melbourne, in Australia. È noto per essere una zona trendy e alternativa, ricca di negozi, ristoranti e bar. Nei fine settimana Brunswick è frequentato soprattutto dai giovani, che escono per bere una birra con gli amici. Tuttavia è considerato un posto sicuro e tranquillo, dove nessuno si è mai sentito realmente in pericolo, almeno fino al settembre del 2012, quando una giovane donna viene brutalmente uccisa. L'omicidio sconvolge l'intera comunità, che si infuria con le istituzioni giuridiche, ritenendo che avrebbero potuto impedirlo. Gillian Mieger, detta Gill, è una ragazza di 29 anni, nata in Irlanda il 30 ottobre 1982. Mieger è il cognome del marito, mentre quello di famiglia è McKeon. I suoi genitori si chiamano George ed Edith, suo fratello Michael. Come accennato, la famiglia è originaria dell'Irlanda e viveva a Droeda, una cittadina portuale della Contea di Louth, sulla costa orientale. Gill trascorre la sua infanzia proprio qui, poi il padre George trova lavoro a Perth, in Australia occidentale. I McKeon vi si trasferiscono e vi rimangono per diversi anni. Poi, nel 1996, quando Gill ha circa 14 anni, tornano a Droeda. L'adolescente prosegue gli studi nella sua città natale, dove frequenta le scuole superiori e un college. Poi l'Università di Dublino, dove si laurea in lettere. Gill esaudisce anche il suo sogno di lavorare per una compagnia televisiva quando inizia la sua carriera presso l'emittente nazionale RTE, ossia radio televisione irlandese. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, nel 2008 Gill sposa Tom Meeker. I due si erano conosciuti all'università e si erano innamorati. Insieme sono davvero felici, formano una coppia affiatata e, non molto tempo dopo le nozze, decidono di trasferirsi in Australia. È Gill che lo desidera fortemente perché i suoi genitori sono già tornati a vivere a Perth. Tuttavia, nel 2009 Gill e Tom si stabiliscono a Melbourne, che è piuttosto distante dalla cittadina portuale, ma si sentono spesso con i genitori della ragazza e, appena possono, vanno a trovarli. A Melbourne, Gill trova lavoro nell'amministrazione di un'altra compagna di diffusione radio televisiva, la ABC, ovvero la Australian Broadcasting Corporation. Occasionalmente conduce anche un programma per una delle stazioni radio di Melbourne. A Gill piace tanto questo lavoro e va d'accordo con i colleghi, che la adorano. È una risorsa preziosa per il suo team, che la descrive come una donna brillante, intelligente e spiritosa, ma anche gentile con tutti. Insomma, è un piacere frequentarla. Dunque, la vita di questa donna sembra perfetta. Ha un lavoro soddisfacente, molti amici, una famiglia affettuosa e un marito adorabile. Infatti, tutti restano scioccati quando, nella notte del 22 settembre 2012, Gill scompare improvvisamente. Torniamo al pomeriggio di venerdì 21 settembre. Gill termina la sua giornata lavorativa intorno alle 17, poi lei e qualche collega decidono di uscire insieme e di recarsi a Brunswick. Il fine settimana è appena iniziato ed è il compleanno di uno dei colleghi, quindi bisogna festeggiare. Il gruppo entra in un paio di bar sulla Sydney Road, che rappresenta il cuore del soborgo. Nel primo bar, che si chiama Brunswick Green, gli amici chiacchierano e bevono qualche drink. Più tardi si spostano al bar Etiquette, che non è molto distante dall'abitazione di Gill e del marito. Infatti, lei dovrà percorrere circa 900 metri per rincasare. Quella sera, Gill prova a chiamare Tom per proporgli di unirsi a loro, ma lui non risponde. La ragazza gli scrive anche dei messaggi, ma suo marito non sente il telefono, perché sta già dormendo. Dunque Gill prosegue la sua serata, continua a bere e a chiacchierare con i colleghi, visto che si stanno divertendo molto. A luned30 di notte il bar sta chiudendo i battenti, quindi Gill decide di tornare a casa. Saluta il gruppo e una collega va via dal locale insieme a lei e chiama un taxi. Propone anche a Gill di salire a bordo, così avrebbe evitato di camminare da sola per rientrare a casa, ma Gill è tranquilla, rifiuta l'offerta perché desidera fare quattro passi. Dopo aver salutato la collega salita sul taxi, Gill si incammina lungo la via. Durante il tragitto parla brevemente al telefono con il fratello, poi termina la chiamata e continua a percorrere Sydney Road. Ha fatto questa strada tante altre volte e non le è mai successo niente perché, come detto all'inizio del video, è una zona tranquilla. Eppure Gill non tornerà mai a casa. Intorno alle due di notte, e siamo ormai al 22 settembre, Tom si sveglia e si rende conto che sua moglie non è ancora rientrata. Prova a chiamarla al cellulare, ma non ottiene risposta. Le manda un paio di messaggi, ma Gill non dà segnali. Tom è perplesso, tuttavia decide di aspettare ancora qualche ora. Crede che da un momento all'altro Gill aprirà la porta di casa, ma non succede. Alle quattro di notte, Tom è ormai davvero preoccupato. Sono ore che chiama e manda messaggi a sua moglie senza ricevere risposta. E non è da lei comportarsi in questo modo. Così decide di vestirsi e di uscire per andare a cercarla. Cammina lungo Sydney Road, nella speranza di trovarla, ma non c'è traccia di Gill. Tom sospetta che qualcosa di brutto sia accaduto e, alle 6 del mattino, contatta la polizia e denuncia la scomparsa di sua moglie. Tom ripercorre con gli agenti i movimenti di Gill della notte e del giorno precedenti. Mentre i detective avviano l'indagine, lui trascorre la giornata di sabato contattando i colleghi con cui sua moglie ha condiviso la serata. Loro gli raccontano quando l'hanno vista l'ultima volta, cioè nel momento in cui Gill ha lasciato il bar che stava chiudendo. Come ricorderete, una collega l'ha anche invitata a salire a bordo del taxi insieme a lei, per evitare che Gill si inoltrasse da sola lungo la via del ritorno. Ma la ragazza ha rifiutato e si è incamminata a piedi. Dunque, durante il breve tragitto, deve esserle successo qualcosa. La polizia si concentra innanzitutto sull'esaminare i movimenti bancari di Gill per vedere se risultino delle transazioni da quando è scomparsa. Se lei avesse prenotato una stanza in qualche hotel, gli agenti avrebbero potuto individuarla e sperare che stesse bene. Purtroppo, però, Gill non ha effettuato nessun pagamento con carta dopo aver lasciato il bar all'1.30. E questo è preoccupante. Nella giornata di domenica, la notizia della scomparsa di Gill si diffonde rapidamente sui social network. Viene creata una pagina su Facebook chiamata Aiutaci a trovare Gill Mieger, che ben presto ottiene 100.000 mi piace. Grazie all'attenzione che il caso riscuote online, i media approfondiscono la notizia. Non molto tempo dopo, Tom lancia un appello televisivo insieme agli investigatori, nella speranza di ricavare delle informazioni utili. I detective devono comunque investigare a 360 gradi, quindi indagano anche sul marito di Gill. Infatti, spesso, il partner della vittima o della persona scomparsa è il primo sospettato della polizia, dato che, in molti casi, risulta essere il colpevole. Bisogna essere certi che Tom non sia coinvolto nella sparizione di sua moglie, che non le abbia fatto del male una volta rientrata a casa, che non abbia sport o denuncia solo per depistare gli agenti. La polizia, quindi, esegue una perquisizione sia dell'abitazione che della macchina di Tom, ma non trova nulla di rilevante. Non emergono prove che inducano a sospettare di lui. In effetti, anche l'appello di Tom, rilasciato in televisione, mostra quanto sia distrutto per la scomparsa della moglie. Il pubblico percepisce appieno la sua preoccupazione e la sua speranza che Gill sia sana e salva. In sostanza, la polizia crede che Tom sia innocente, ma non può ancora escluderlo dall'indagine. Tuttavia, al momento, non sussistono indizi per implicare qualcun altro. A questo punto, i detective decidono di esaminare i filmati di sorveglianza di tutte le telecamere a circuito chiuso, disposte lungo Sydney Road, dove Gill è stata vista l'ultima volta. La speranza, ovviamente, è quella di individuarla almeno in una delle riprese. Fortunatamente ci sono diversi negozi lungo questa via e la maggior parte di questi utilizza telecamera a circuito chiuso. La polizia raccoglie ed esamina tutti i filmati e riesce ad avvistare Gill. La ragazza appare nel video di una telecamera posizionata all'interno di un negozio di abiti da sposa, ma orientata verso l'esterno. Come vedete, Gill passa davanti alla porta dell'atelier ed entra nell'inquadratura, è vestita di nero e indossa dei tacchi alti. Ma non è sola, sta chiaramente parlando con un uomo che indossa una felpa con un cappuccio blu. La polizia, analizzando tutti i filmati ottenuti dal negozio di abiti da sposa, nota che quest'uomo è stato ripreso più di una volta durante la notte in questione. Circa un paio di minuti prima che Gill venga immortalata dalla telecamera, l'uomo con la felpa blu passa già davanti all'atelier, ma da solo. Pochi istanti dopo cammina di nuovo lì davanti, ma nella direzione opposta. Questo significa che ha deciso di voltarsi e tornare indietro. Gill era stata ripresa anche da un'altra telecamera a circuito chiuso, mentre cammina da sola lungo Sydney Road. Ma di lì a poco pure l'uomo con la felpa blu appare nel filmato. Sembra stia correndo nella stessa direzione in cui avanza Gill, come per cercare di raggiungerla. E ci riesce. Infatti subito dopo la telecamera collocata all'interno del negozio di abiti da sposa riprende Gill, che passa lì davanti e viene avvicinata dal tizio con la felpa. Lui inizia a parlarle, ma pare che Gill sia infastidita perché non lo conosce. L'estraneo le cammina accanto, lei allora rallenta, è nervosa. Gill gli risponde, ma tira fuori il telefono, probabilmente per fargli credere che stia per chiamare qualcuno, nel tentativo di allontanare lo sconosciuto invadente. Questo è l'ultimo filmato disponibile, poi Gill sparisce dall'inquadratura. Chiaramente l'uomo con la felpa diventa un soggetto di grande interesse per la polizia. Forse aveva rapito Gill? La polizia ha bisogno di maggiori elementi e si rivolge alla comunità, pubblicando il video in cui appare l'uomo misterioso durante una conferenza stampa. I detective in questa occasione non dicono esplicitamente che lui è un sospettato, bensì affermano che sono ansiosi di identificarlo per parlare con lui. Magari potrebbe fornire delle informazioni utili sulla scomparsa di Gill. In pratica gli investigatori non lo qualificano come un potenziale responsabile perché se l'uomo sta seguendo la conferenza stampa ed è davvero coinvolto potrebbe andare nel panico e provare a scappare. In ogni caso la polizia rilascia questo filmato al pubblico e nel frattempo esamina i filmati prodotti da altre telecamere a circuito chiuso installate nella zona per vedere se riprendano Gill o il tizio con la felpa blu di nuovo. Allo stesso tempo i detective cercano qualsiasi traccia di Gill nell'area di Brunswick. Dopo un paio di giorni dalla sua scomparsa, quindi il lunedì, individuano la sua borsa a terra in un vicolo vicino a Hope Street, sempre a Brunswick. Il punto non è troppo lontano da dove Gill è stata vista l'ultima volta nel filmato della telecamera a circuito chiuso. La borsa è certamente sua perché contiene il suo badge identificativo della compagnia radio televisiva ABC. Ma una stranezza riguardo a questo rinvenimento è che la polizia dopo la denuncia di scomparsa aveva già perlustrato la zona di Hope Street senza trovare nulla. Quindi? Qualcuno ha posizionato la borsa nel vicolo dopo aver visto la conferenza stampa? Chi può essere stato? Questa domanda riceve una risposta ben presto perché uno spettatore si fa avanti e ammette di aver abbandonato lui quella borsetta nei pressi di Hope Street. Fornisce a suo discolpa questa spiegazione. Viveva nelle vicinanzi e aveva visto la borsa a terra, sempre in quel vicolo, la notte della scomparsa di Gill. Senza sapere ancora a chi appartenesse, l'aveva presa e portata in casa propria. Poi però, tramite il telegiornale, aveva appreso della scomparsa della 29enne e aveva visto tutto l'impegno profuso dai detective per ritrovarla. Allora è andato nel panico perché temeva che la polizia, qualora avesse saputo che aveva lui la borsetta, avrebbe potuto sospettare di un suo coinvolgimento nella sparizione di Gill. Così aveva ritenuto opportuno liberarsi della borsa gettandola nel vicolo dove l'aveva trovata e dove la polizia poi l'ha rinvenuta. Resta quindi ancora da comprendere perché la borsa si trovasse nel vicolo in un primo momento, cioè subito dopo la scomparsa di Gill. Cos'è successo alla ragazza quella notte? Ha lasciato lei la borsetta nel vicolo? Le indagini proseguono ma ormai la speranza di ritrovare la donna in vita purtroppo si riduce. La polizia riesce a scoprire che dopo la scomparsa Gill non ha più usato il suo cellulare ma rintraccia la posizione del telefono durante quella notte e poi anche le sue localizzazioni successive. Il cellulare di Gill è rimasto a Brunswick fino alle 4.30 circa della notte a cavallo tra il 21 e il 22 settembre. Poi ha iniziato a spostarsi fuori dal sobborgo dirigendosi verso nord. Si è collegato a un ripetitore all'altezza di Moreland Road, una strada vicina alla Talmarin Freeway, un'importante autostrada urbana di Melbourne che collega l'aeroporto al centro della città. Per la polizia se Gill è stata costretta a salire in una macchina quella notte il suo rapitore, o forse l'assassino, ha imboccato proprio l'autostrada. Durante il percorso c'è un dispositivo che scatta delle foto a tutte le vetture in transito. Dunque la polizia decide di esaminarle basandosi sulle informazioni di localizzazione relativa al cellulare. Gli agenti recuperano tutte le targhe delle auto per indagare su ogni conducente l'autostradale verso nord, tenendo conto dell'orario ricavato dal telefono. Questo è un lavoro sicuramente impegnativo, ci sono circa un centinaio di auto che devono esaminare, ma sperano che questa linea di indagine possa indicare una nuova pista o condurre a una nuova persona di interesse. Ed è in effetti esattamente quello che accade, perché uno dei veicoli rintracciati appartiene a un molestatore intimo già noto alla polizia. Il suo nome è Adrian Bailey, ha 42 anni e una fedina penale macchiata dalle numerose aggressioni intime di cui è responsabile. Quando anche il telefono di Adrian viene localizzato si scopre che aveva fatto il medesimo viaggio del cellulare di Jill, stessa ora e stessa direzione lungo l'autostrada. La polizia deve sbrigarsi a rintracciare quest'uomo perché è improbabile che si tratti di una coincidenza. Il suo passato e la fedina penale suggeriscono che è capace di commettere atti violenti e senza scrupoli. La polizia scopre che ora Adrian Bailey vive abbastanza vicino, in una zona chiamata Coborg, un soborgo di Victoria distante circa sei minuti di macchina da Brunswick. I detective vanno a prenderlo e lo portano alla stazione di polizia dove avrà luogo un lunghissimo interrogatorio. Adrian nega tutto, sostiene di non sapere nulla di Jillian, di non averla mai incontrata. Anzi, in realtà dice che ciò che sa lo ha sentito al telegiornale ma non potrebbe fornire ulteriori informazioni alla polizia. Ebbene, sappiate che in realtà Adrian mente. Infatti mentre sotto interrogatorio un'altra squadra di detective perquisisce la sua abitazione e qualcosa trova. Tra la biancheria da lavare, rovistando nelle tasche di un paio di pantaloni, emerge la scheda sim del telefono di Jill inserita nel cellulare di Adrian. Questo dimostra che la conosceva e che è coinvolto nella sua scomparsa. Ma non è assolutamente finita qui perché oltre alla sim card i detective trovano anche la felpa con il cappuccio blu che Adrian indossava la notte della scomparsa di Jill. È lui l'uomo che compare nel filmato della telecamera di sorveglianza presente nel negozio di abiti da sposa, quello in cui Jill viene vista per l'ultima volta. Gli investigatori ora ne sono certi, Adrian Bailey è colpevole. I detective che lo interrogano non mollano, convinti che prima o poi Adrian non reggerà più la pressione a cui è sottoposto. Così invece di continuare a negare, crollerà e confesserà. In effetti è proprio ciò che accade. Dopo sette ore di interrogatorio, Adrian ammette di essere il responsabile del rapimento e dell'omicidio di Jill. Questa che vi riporto in seguito è la sua versione. La notte in cui Jill è scomparsa, lui era uscito per divertirsi e farsi una bevuta, proprio come lei. Prima era stato in un bar con un paio di colleghi, poi più tardi la sua fidanzata lo aveva accompagnato al lounge bar di Brunswick. Questo locale è situato più o meno dall'altra parte del soborgo rispetto al bar Etiquette, dove Jill stava trascorrendo la serata con i suoi amici. Anche Adrian in realtà sta passando una bella serata, si diverte insieme alla sua ragazza e ai colleghi di lavoro, fino a che non inizia a litigare con la sua fidanzata. Lei lo accusa di essere troppo possessivo e geloso, così la piccola discussione si trasforma in una brutta lite e la sua ragazza decide di tornare a casa da sola. Adrian le manda dei messaggi e prova a chiamarla per tutta la notte, ma lei lo ignora e questo lo fa davvero incavolare, così si rifugia nell'alcol. Beve a profusione fino a ubriacarsi e la sua rabbia, al posto di placarsi, aumenta. Infine decide di lasciare il lounge bar e inizia a camminare da solo. È proprio così che incontra Jill. Adrian ammette che è lui l'uomo immortalato nel filmato della telecamera a circuito chiuso. Quella sera indossava una felpa blu con il cappuccio e si era avvicinato a Jill mentre lei era diretta a casa, da sola. Adrian afferma che aveva solo cercato di essere gentile con lei, voleva fare due chiacchiere, anche se Jill, per lui, era una completa estranea, mica la conosceva. Adrian aggiunge che all'inizio era stata amichevole e gentile con lui, ma poi si era innervosita e aveva iniziato a evitarlo. Insomma, non voleva parlargli più e questo suo atteggiamento lo aveva fatto arrabbiare, così l'aveva afferrata e trascinata nel vicolo appena dopo Hope Street, dove poi la polizia ha ritrovato la sua borsetta. Adrian in quel vicolo aveva ucciso Jill, strangolandola a mani nude. Sempre secondo la sua avversione aveva lasciato il suo corpo lì per un po' di tempo ed era rincasato per prendere la propria macchina e una pala. Poi era tornato nel vicolo, aveva caricato il corpo di Jill nel bagagliaio dell'auto, dopodiché aveva guidato lungo l'autostrada fino a Gisborne South, una località che si trova a 40 minuti di macchina da Brunswick. Aveva raggiunto una tranquilla strada sterrata dove aveva seppellito il corpo senza vita di Jill in una fossa poco profonda nelle prime ore della mattina di sabato 22 settembre. Poi aveva tentato di coprire le proprie tracce. Sabato sera si era recato presso una stazione di servizio per far pulire la macchina e di conseguenza eliminare ogni prova. Lunedì invece era andato da un gommista chiedendogli di sostituire tutti e quattro gli pneumatici dell'auto. Era preoccupato che contenessero delle tracce di fango residue risalenti al luogo in cui aveva seppellito il cadavere di Jill. Adrian si era impegnato davvero per farla franca ma una settimana dall'omicidio di Jill è stato arrestato. La polizia ora ha la sua confessione e deve recuperare immediatamente il corpo di Jill. I detective quindi gli ordinano di salire in macchina con loro e di indicare la zona in cui ha occultato i resti della 29enne. Trescorre un po' di tempo affinché Adrian riesca a ricordare con esattezza il punto della sepoltura dato che aveva agito di notte al buio. Alla fine però riesce a individuarlo. si trova precisamente a Black Hill. Il 27 settembre 2012 la polizia rinviene il corpo di Jill in una fossa poco profonda di circa 35 centimetri. La vittima è completamente nuda dalla vita in giù e si suppone che il movente del crimine abbia uno sfondo intimo come conferma l'autopsia. La povera Jill aveva subito violenza intima un paio di volte prima di essere strangolata a morte da Adrian. Nello stesso giorno in cui il cadavere della giovane donna viene recuperato, Adrian Bailey viene formalmente accusato del suo omicidio. Ora vi parlo del passato di Adrian così potremo indignarci tutti insieme. Adrian Bailey nasce il 14 luglio 1971 da Ernest e Christine. Ha tre sorelle e un fratello. La sua famiglia abitava nella periferia orientale di Melbourne dove Adrian è cresciuto. Non si rintracciano particolari informazioni sulla sua vita. Non sappiamo come lo hanno cresciuto i suoi genitori, se in casa ci fosse un clima sereno o turbolento. Adrian era un tipo un po' solitario, non aveva molti amici e amava stare per conto proprio. Tuttavia gli piaceva molto giocare a calcio e seguiva questo sport fin da bambino. Nel 1989 all'età di 18 anni si era sposato, poi lui e sua moglie avevano messo al mondo due figli. È proprio intorno a questa età che Adrian aveva attirato per la prima volta l'attenzione della polizia, compiendo un'aggressione intima ai danni di una 17enne amica di una delle sue sorelle. In seguito aveva tentato di esercitare violenza intima su altre due ragazze, una di 17 anni e l'altra di 16. Tutti questi episodi erano avvenuti nel 1990, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. Adrian era stato arrestato per i crimini in questione e interrogato. Alla fine aveva confessato, quindi era stato accusato e condannato a cinque anni di prigione. Tuttavia non aveva scontato neanche la metà della pena perché era stato rilasciato sulla parola dopo soli 22 mesi. Uscito dalla prigione, Adrian aveva iniziato un apprendistato nell'ambito dell'arte culinaria e si era qualificato come pasticcere. Un paio di anni dopo, nel 1995, lui e sua moglie avevano deciso di separarsi e che lei avrebbe portato via con sé i due bambini. Di lì a poco, Adrian aveva conosciuto un'altra donna e in quello stesso anno l'aveva sposata. Lui e la nuova moglie avevano messo al mondo due figli. Ma nel 2002, a distanza di diversi anni, Adrian era stato condannato per aver aggredito intimamente cinque passeggiatrici a St. Kilda, un soborgo balneare di Melbourne tra il settembre del 2000 e il marzo del 2001. Le cinque aggressioni erano state denunciate alla polizia che alla fine era riuscita a collegarle e a identificare Adrian Bailey come l'assalitore. Era stato di nuovo interrogato e poco dopo aveva confessato, ma provando a giustificare le sue azioni, cioè attribuendo alla mancata attività intima che caratterizzava il suo secondo matrimonio. Visto che la moglie si negava, aveva bisogno di sfogarsi e non gli interessava che non ci fosse consenso da parte delle donne. Giusto per aggravare ancora di più la sua posizione, Adrian aveva detto agli investigatori che le passeggiatrici erano soggetti inutili, gli scarti della società, poco gli importava del loro destino. Dopo questi risvolti, la seconda moglie di Adrian lo aveva lasciato e aveva portato con sé i bambini, come avvenuto con la prima. Adrian, per l'appunto, nel 2002 era stato condannato a 11 anni di detenzione, con una pena minima di 8 anni, prima di poter beneficiare della libertà condizionale. Almeno in relazione a questa condanna, Adrian non ottiene sconti imprevisti e viene rilasciato nel marzo del 2010 in regime di libertà vigilata. Nel 2011, Adrian aveva iniziato una nuova relazione e presto lui e la sua fidanzata erano andati a vivere insieme a Coburg. È proprio lei la donna con cui ha litigato la notte dell'omicidio di Jill. Non passa molto tempo prima che Adrian finisca di nuovo negue con la legge, infatti nell'agosto del 2011 aveva violato la libertà condizionale. Una notte aveva picchiato un ragazzo di 20 anni attuando un pestaggio davvero feroce. Adrian gli aveva rotto la mascella e fatto perdere i sensi, quindi il giovane era stato portato in ospedale d'urgenza. Dopo il violento episodio, Adrian era stato arrestato e accusato dell'aggressione. Nel febbraio del 2012 si era dichiarato colpevole ed era stato condannato a tre mesi di prigione. Adrian però riteneva che questa pena fosse troppo lunga in proporzione al crimine da lui commesso. Così aveva fatto appello contro la sentenza e incredibilmente la Commissione per la Libertà Vigilata aveva deciso di rilasciarlo su cauzione. Sarebbe stato più saggio tenerlo in prigione, almeno fino alla formulazione dell'esito del suo appello. Infatti, se fosse stato così, non avrebbe potuto uccidere Jillian Meagher, appena un paio di mesi dopo. Nel marzo del 2013, circa sei mesi dopo l'omicidio di Jill, si tiene l'udienza di patteggiamento. Adrian però decide di dichiararsi colpevole dell'accusa di aggressione intima, ma non dell'accusa di omicidio. Nega di nuovo nonostante prima avesse confessato, conducendo pure i detective nel luogo in cui aveva sepolto il corpo della 29enne. Tuttavia, poco tempo dopo, cambia idea e decide di dichiararsi colpevole di tutte le accuse. Il 19 giugno del 2013, Adrian Bailey viene condannato all'ergastolo con una pena minima di 35 anni. Soltanto trascorso questo periodo, dietro le sbarre potrà essere preso in considerazione il regime di libertà vigilata. Dopo la condanna, la faccia di Adrian appare su tutti i notiziari e altre sue vittime decidono di farsi avanti. Ognuna di loro afferma di essere stata aggredita intimamente da lui prima dell'omicidio di Jill. A fronte di queste nuove accuse, Adrian viene condannato a ulteriori 18 anni di prigione. Tuttavia, nel 2016 fa appello contro la sentenza per una delle tre aggressioni a lui attribuite. Dopodiché, la sua pena aggiuntiva viene ridotta di tre anni, per un totale di 15 anni supplementari di detenzione. Ora però facciamo un passo indietro. Quando si scopre che Adrian Bailey è l'assassino di Jill, l'opinione pubblica si indigna e si trista. Perché quel criminale era in libertà? Perché ha avuto la possibilità di aggredire un'altra giovane donna? Jill voleva soltanto tornare a casa propria. Le notizie sull'identità e sul passato di Adrian si diffondono a macchia d'oglio. Tutti i giornali e i social media ne parlano e la gente si arrabbia. Chiede a gran voce che le cose cambino. Viene organizzata una protesta a cui partecipano 30.000 persone che camminano tutte insieme lungo Sydney Road, la strada dove è avvenuto un incontro letale per Jill. I manifestanti vogliono che le autorità si impegnino per proteggere le giovani donne come lei dagli autori di reati intimi recidivi come Adrian. Dopo la condanna dell'assassino, i media e di conseguenza il pubblico sollevano diversi dubbi sul sistema di libertà condizionale australiano, ritenendolo inefficace sotto diversi aspetti. La gente è furiosa. Perché Adrian, che ha commesso così tante violenze intime ed è stato ogni volta scoperto e condannato, l'ha sempre fatta franca? Come hanno potuto rilasciarlo sulla parola? Ha anche violato la libertà vigilata massacrando di botte un ragazzo e in quel periodo ha ucciso Jill. Adrian è un individuo palesemente pericoloso, eppure le autorità non hanno fatto nulla di concreto per proteggere i cittadini da lui. La morte di questa giovane donna poteva davvero essere evitata. Molte persone, compresi gli amici e i familiari di Jill, ritengono che il sistema giudiziario e la Commissione per la Libertà Vigilata abbiano fallito, dunque chiedono che venga eseguita una revisione di entrambi. A seguito di questi eventi si ottiene un effettivo inasprimento delle leggi sulla libertà condizionale a Vittoria, cioè una normativa più rigorosa e severa. Ora, davanti a un individuo come Adrian Bailey, la Commissione per la Libertà Condizionale, prima di esprimersi a favore, deve condurre una seria valutazione dei rischi. Va attentamente determinato se un soggetto rappresenta una minaccia, se è probabile che commetta ulteriori reati. Se il rischio si rivela troppo alto, al criminale va ordinato di intraprendere dei programmi comportamentali prima di prendere in considerazione il rilascio. Il caso di Jill ha davvero apportato dei cambiamenti per tutelare le donne, e non solo dall'aggressione messa in atto da soggetti pericolosi in regime di libertà vigilata, come era Adrian Bailey. Tuttavia è vergognoso che una donna sia dovuta morire per innescare tali cambiamenti. Adrian Bailey quella notte non avrebbe dovuto essere libero, ma si sarebbe dovuto trovare ancora in prigione. I casi in cui si verificano delle morti evitabili sono tra i più devastanti per me. Jill era una donna adorabile, come si apprende dalle interviste rilasciate dalla sua famiglia e da suo marito Tom. Guardandole, sono riuscita a comprendere quanto fosse amata e quanto la sua mancanza l'ilogorerà per sempre. E questo ci porta alla fine del video. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, perché a me ha fatto davvero arrabbiare, ma davvero davvero tanto. Quando ho letto tutti i precedenti di Adrian, ho pensato ma perché era libero? Perché l'hanno lasciato libero? Era palesemente un soggetto pericoloso, pericolosissimo. E quando vengo a sapere di questi casi ci rimango sempre molto male, sono onesta. Voi conoscevate questo caso? Che cosa ne pensate? Sono molto curiosa di sapere le vostre opinioni. Come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!